In questa video guida parliamo di cuscini in lattice. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. I cuscini in lattice hanno lo scopo di aiutare il corpo di chi li usa a rilassarsi e a scaricare le tensioni. Essi perseguono questo scopo mantenendo nella posizione corretta i dischi della colonna vertebrale durante il sonno. Per ottenere questi effetti benefici bisogna appoggiare la nuca sul guanciale in lattice che a differenza dei classici guanciali riesce a sostenere il capo di chi lo usa in maniera perfetta. I cuscini in lattice, inoltre, sono traspiranti e riducono la sudorazione durante il sonno. Questa loro proprietà traspirante gli permette anche di durare di più nel tempo dato che difficilmente si accumuleranno acari e si formeranno muffe. Grazie. 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 Grazie.